Si torna in aula in Alessandria il prossimo 21 luglio per il processo a Luca Orlandi, ritenuto dall'accusa l'autore dell'omicidio di Norma Megardi, l'insegnante di sala trovata morta all'interno della sua auto bruciata il 20 giugno dell'anno scorso. E' stato infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai difensori di Luca Orlandi, gli avvocati Vladimiro Meisina del Foro di Pavia e Lorenzo Magnarelli di Roma per spostare le udienze in un'altra sede. A loro dire il clima in Alessandria non avrebbe permesso la terzietà del giudizio. Luca Orlandi, agricoltore di 24 anni, di sale, da tempo coltivava alcuni terreni di proprietà della famiglia Megardi. Quando la mattina del 20 giugno lui e l'insegnante in pensione si erano trovati su una stradina di campagna avevano litigato, forse per una questione di affitti non pagati. A quel punto, secondo l'accusa, il ragazzo avrebbe investito la donna, avrebbe caricato il suo corpo sull'automobile dell'insegnante e l'avrebbe portata in un campo di sterpaglia, Isola Sant'Antonio, per poi dare fuoco all'auto nel tentativo di occultare il cadavere della donna. Dopo alcuni giorni Luca Orlandi si era presentato in caserma dai carabinieri confessando l'omicidio. Arrestato dopo alcuni mesi, quando gli era stata negata la richiesta di scarcerazione, aveva ritrattato dicendo che gli erano state fatte delle pressioni per confessare. Si torna dunque in aula davanti al GUP Paolo Bargero, venerdì prossimo 21 luglio alle 10 del mattino. Luca Orlandi e la sua famiglia, la madre e il padre, dovranno rispondere anche di calugna nei confronti dei carabinieri assistiti dall'avvocato Piero Monti. Guglielmina Mecucci è invece il legale della famiglia di Norma Megardi.